Un luogo tetro, selvaggio e dimenticato da secoli. Un angolo di mondo che mai gli esseri umani avevano osato violare, dove si c'erano spaventosi misteri. Nelle profondità della terra, la natura ha creato una delle sue più sconvolgenti aberrazioni. La quiete è giunta al termine, la creatura dormiente è stata risvegliata. Un centro di ricerca costruito per contenere la natura e il suo potere. L'incosciente tentativo dell'uomo di catturare la bestia che abita le oscure profondità della terra. I scienziati brancolano nel buio, il mistero si intittisce attorno all'inspiegabile genoma. Poi una notte, il primo attacco, l'inizio di una lunga serie di inspiegabili accadimenti. Il centro di ricerca non è più un luogo sicuro, costantemente minacciato dall'inarrestabile furia della creatura. Le autorità hanno posto l'area sotto sequestra. Certi misteri è meglio che rimangano sepolti per sempre. Ma dietro gli alti cancelli, la caccia, con i team. Solo pochissimi temerari decidono di sfidare la propria sorte nel tentativo di catturare il dominatore della paludina. Ma pagheranno a caro prezzo la loro audacia. Ma pagheranno a caro prezzo la loro audacia. La creatura ha risparmiato i temerari che hanno avuto la sfrontatezza di affrontarla. E' ora il loro compito, raccontare al mondo che esistono misteri che non devono mai più essere rispegnati.